Il sindaco Mario Occhiuto proporrà al Consiglio Comunale di conferire la cittadinanza onoraria al prefetto Gianfranco Tomao in procinto di lasciare Cosenza dopo aver trascorso 5 anni nella sede del capologo Bruzio. Sarà destinato alla prefettura di Livorno nell'ampio calendario dei saluti istituzionali intrapreso da quando nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri, come da Prassi, ha disposto il suo trasferimento, il prefetto Tomao è stato ricevuto a Palazzo dei Bruzzi per un ringraziamento ufficiale del primo cittadino, della Giunta, del Presidente del Consiglio Pierluigi Caputo e di un'ampia rappresentanza di consiglieri e dirigenti comunali con i quali ha spesso interlocuito in merito a questioni non facili. Tra quelle affrontate e risolte, ha ricordato Occhiuto, c'è stato anche lo smantellamento del campo Rom sul fiume Creati, un interlocutore diventato nel tempo un testimonial di positività per Cosenza. Già nello scorso mese di novembre l'amministrazione aveva conferito la cittadinanza onoraria ad un altro prefetto, Raffaele Cannizzaro, predecessore dello stesso Tomao. Nei prossimi giorni sarà avviato l'iter procedurale. Prima di congedarsi, il rappresentante di governo ha lasciato un breve messaggio sul libro d'onore del Comune a ricordo della intensa esperienza trascorsa in Rivalcrati. Salvatore Bruno per la Cineus 24.